Buon pomeriggio a tutti da Tortoreto per la finalissima della Lega Futsal Amatori Latina. Il saluto delle due finaliste, ovvero Arena Celeste, maglia nera-azzurra, Dolce Notte, maglia giallo-rossa. Il saluto dei due capitani di Adriel Mogorase. Si comincia, primo pallone giocato da Dolce Notte, da due giudici. Serve proprio Grattà da destra, impostazione offensiva, sbaglia, attenzione Panzari, l'occasione. Sinistro a lato, Cucchiarelli protegge con il tacco per Digiro Lamò. L'indietro la conclusione di Grattà improvvisa, il pallone termina alto, prima chance per... Arena Celeste, andare con il destro, la conclusione e il gol! Il gol di Digiro Lamò, il vantaggio 1-0. Grama, imposta, larga destra, la presidata Mogorase. Chiede l'1-2 all'Upsal, che si gira. Bene per Panzari, è grande intervento da parte dei giudici. Lo ne è riconquistato da Arena Celeste. Attenzione a Panzari, con la punta del piede destro, trova il palo. Di prima, con il tacco, ha cercato Cucchiarelli, il pallone di ritorno e poi la conclusione di Panzari con la punta del piede destro. Grama, di prima per Panzari, poi l'Upsal. Brava, ha fatto il gol del pari. Visan, zona tiro, va con il destro dei giudici, poi il gol del pari. Di Panzariu, il pareggio ai conti, 1-1. Premiato, lo sforzo della formazione di Dolce Notte. Trova il pareggio, 1-1. Cucchiarelli. Chiamava palla in avanti, Musilli lo vede. L'Upsal però riesce con il sinistro a calciare, ancora una volta dei giudici. In due occasioni, la chance per portare in vantaggio di Dolce Notte. Visan è il palo. Colpito da Visan, occasione sciupata per il vantaggio. La conclusione è murata da Grama. Panzariu per Mogorase. Visan, Mogorase, di prima. La conclusione vincente in diagonale di Mogorase che sorprende dei giudici. 2-1. Vantaggio per Dolce Notte. Grattà, di prima per Cucchiarelli. Spara la porta per Stefanelli. Arriva con il destro. Il pareggio. Di Luca Stefanelli. 2-2. Torna di nuovo all'equilibrio del match. Grattà, di lui Panzariu. Mogorase recupera il pallone per Panzariu. La conclusione deviata. Panzariu. La guarda di sua, la prova alla conclusione. Ancora Panzariu, le finte. Va con il destro. Doppio muro e poi Panzariu. Grattà sul punto di battuta. Va con il destro deviato. E poi Karpuk vola. E mette in calcio d'angolo. Di Gironamo. L'errore. Fa ancora Di Gironamo. 2 contro 1. Attenzione Di Gironamo. Allarga per Grattà. Per Di Gironamo. Con il sinistro. Sbaglia sotto porta. Lupsan con il destro. Deviato. Da Grattà. Calcio d'angolo. Cerca Lupsan. Lo trova. Poi Mogorase da sinistra. Va la conclusione. Deviata. Calcio d'angolo. Lasce bene. Palla a piede. Doce notte con Grama. Serve Lupsan. Lupsan con il destro. La gran parata. La partita di Giudici. Per Musilli. Serve Di Gironamo. Uno contro uno. Di Gironamo. Se ne va. Di Gironamo. In area di rigore. Di Gironamo. La parata di Karpiuk. Attenzione a Karpiuk. Parte palla al piede. Allarga sinistra. Per Grattà. E poi Lupsan. La traversa. Gramo Rosa. Porta vuota. Mogorase. Cambia lato. Per Panzariu. Fa la conclusione con il destro. Dei Giudici ci arriva. La conclusione altissima. Errore di Visan. Con il destro. Conclusione alta. E finisce la sfida. Si va. Ai calci di rigore. Per decidere la finalissima. Pronto Stefanelli. Contro Karpiuk. Stefanelli. Gol. 1-0. Vantaggio. Di Arena Celeste. 1-0. Mogorase. Contro De Giudici. E il gol. 1-1. E piazzato. Da parte di Mogorase. 1-1. Ma di Gironamo. Destro. Gol. Spiazza completamente Karpiuk. Trova gol del 2-1. Visan. Con il destro. E il gol. Va bene. Va bene. Va bene. Va di giro la moto. Conclusione gol. Potente e preciso. 3-2. Fa Panzariu. e c'è il gol del pari. Sopra destro. Vai Saberi. Mandalo fuori. Fa Grattà. E il piazzato. 4-3. Fa Panzariu. Con il destro. Sotto in croce dei pali. 4-4. fa Cucchiarelli. Fa Cucchiarelli. Cucchiarelli. Il gol. Del numero 9. 5-4. Va Grama. Con il destro. C'è il gol di Grama. Il rigore è perfetto. Fa Musilli. Con il destro. Rete. Anche di Musilli. Lupsan con il destro. E il gol. Verdone. Con il destro. E c'è il gol di Verdone. Vantaggio di Arena Celeste. A conclusione. Sotto in croce dei pali. Pareggio. Va dei giudici. Gol. Va Carpiuk. Con il destro. Contro Carpiuk. Stefanelli. Con il destro. Gol. Con il destro. Trava il gol del pari. Fa Di Girolamo. E il gol. Fa Visan. E il gol. Tocca a Bruno Di Girolamo. Contro Carpiuk. Fa Di Girolamo. Gol. Altro vantaggio. Arena Celeste. Panzariu. Il portiere deve essere... Niente, niente. Ma ti puoi fare il cambio portiere volendo? No, no. Ok, scusa. Ma che sta lì in piedi, dai. Tocca a Panzariu. Contro dei giudici. E va fuori. La conclusione di Panzariu. Dopo una sera infinita. C'è il successo. Per Arena Celeste. Nella Lega Fruzzal Amatori Latina. 2017. E' l'Arena Celeste Sonnino. Veloce, veloce, veloce. Salirà Musilli. Grazie. Premia. Anche Izerri. Oh. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info